L'amore, l'amore 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 Caspiterina, si può vedere un film senza la tv Vuoi venire a vedere un film? Orso, per chi è questo imito a forma di cuore? E dai, orso, dimmelo! Oh, vuoi regalare quel cuore a qualcuno? Ora ho capito! D'accordo, d'accordo! So che puoi regalarlo! Tranquillo, vado a prenderlo io! Orso, hai lasciato un gran disordine qui dentro! Guarda qui, guardala! Mato mi mai sarà! Bota qui, guardala! Mato mi mai sarà! Orso, guarda! Sono riuscita a trovarlo! Orso, per chi sono questi inviti? Ci sono! Sono da distribuire! Uno a te, questo è per te E anche a te Mentre questo qui lo riporterò a Orso Sì, guarda qui! Grazie a tutti. Ciao, questo è per te. Cerca di venire. Lupacchiotti, c'è nessuno in casa? Tenete, sono per voi. Asso, guarda! Ho ritrovato il tuo invito. E questo invece è il tuo? Oh! Oh! L'amore, l'amore! 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 L'amore, l'amore, l'amore! L'amore, l'amore, l'amore! L'amore, l'amore, l'amore! L'amore, l'amore! L'amore, l'amore! L'amore, l'amore, l'amore! 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 L'amore, l'amore l'amore! L'amore! L'amore, l'amore! He-he-he! Non potrà essere avvincente come una partita di calcio in tv Per te in vano vorresti averlo Si è già deciso di rifiutarlo No, lui è il mio amato Io gli appartengo Non è possibile, sarai mia e di nessun altro No, Orso, aspetta! Non hai visto la parte migliore e più avvincente dello spettacolo? Orso! Ho un messaggio molto profondo Un sottotesto e un contesto E cosa più importante, dimostra il potere trasformatore dell'arte Molto bene! Si va subito in scena È proprio come nella mia favola Forse anche meglio Allora adesso, per farlo tornare com'era Devi fare quella cosa che fai tu Beh sì, le devi baciare una ad una Tutte Avanti fallo Bacio, 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 bacio Insomma, che razza di bacio è quello? Mettici un po' di sentimento Più sentimento Mettici un po' di passione Più cuore, più anima Forza! Evviva, l'incantesimo è rotto! Che cosa c'è? Perché è colpa mia? Io stavo solo raccontando la mia favola Ecco, guardate voi stessi È proprio vero che l'arte ha il magico potere di trasformarci Dunque, dunque Non vedo i cartoni Dove si saranno nascosti? Diamo inizio alla nostra indagine Un, due, tre, io già lo so Che i cartoni troverò Sul microfono clicchiamo E Mascia e Orso noi diciamo Visto com'è semplice E adesso provateci voi!